In questo step noi interverremo sul lato Parco Miralfiori, sulle arcate a ridosso del parcheggio di Porta Capuccina per capirci, tant'è che qualche giorno fa abbiamo fatto un sopralluogo con la ditta per garantire le entrate e le uscite delle auto parcheggiate sul parcheggio di fianco al parco. E' una piccola parte dell'intervento, diciamo un primo stralcio, anche se noi a bilancio abbiamo già 380 mila euro finanziati e stanziati già dal 2019, quindi prongi ad andare in gara. Abbiamo aspettato un attimo perché stiamo partecipando a un bando del Ministero degli Interni e abbiamo individuato il cavalcaferrovia proprio come zona di intervento e nel giro di qualche settimana ci dicono, dovremo capire se questo bando ce lo siamo aggiudicati o meno, a quel punto valuteremo se destinare i 380 mila euro che abbiamo già a bilancio al punto del cavalcaferrovia oppure girarli ad un'altra struttura pubblica. Questo lo potremo fare se il bando del Ministero degli Interni ci darà le risorse necessarie per completare il lavoro. Il ponte è un ponte che ha 50 anni ed è un ponte degli anni 70 per il quale noi abbiamo fatto delle indagini statiche, strutturali importanti, non ci siamo fermati all'occhio a guardare come era la situazione e i tecnici ci hanno detto che il ponte andava in qualche modo rivisto soprattutto per l'aspetto dei guardrail e per questo abbiamo ridotto le carreggiate da 4 a 2 e il lavoro che andremo a fare da metà febbraio appunto è quello di risistemazione dei cordoni e dei guardrail. Una volta terminato un lato il ponte ritornerà a tre corsie, quando termineremo anche all'altro lato ritornerà ad avere le quattro corsie di marcia. Sarà un intervento importante, non causerà particolari criticità alla circolazione perché comunque la circolazione dei veicoli è comunque garantita è un grande segnale dal punto di vista della sicurezza dove appunto l'amministrazione finora ha investito cifre del suo bilancio importanti. Qualora arrivassero le risorse del Ministero dell'Interno è ancora meglio perché le cifre che abbiamo a bilancio, ripeto, le potremo destinare ad altri interventi.